Il Consiglio Comunale è arrivato il Via Libera per la cessione dell'aria per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, una delle priorità di inizio mandato, sottolinea il Sindaco Conoci. Lunedì al qual te la firma sul contratto di laguna che riguarda il Calic nell'ambito del progetto Retralax, prevista tra le altre cose la riqualificazione del tratto della sentieristica del lato ovest della laguna. Continuano gli appuntamenti del calendario per i festeggiamenti di San Michele, organizzati dal Comune con la Fondazione Alghero e le varie associazioni cittadine. Oggi l'inaugurazione del Mamatita Muro nella scuola della Sfodelo e il concerto di Claudia Crabuzza e Pietro Ledda. Un saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Finalmente il Via Libera fondamentale per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Alghero. Ieri il Consiglio Comunale ha dato l'ok alla cessione dell'aria in località La Scaletta, soddisfatta e non solo l'amministrazione comunale. Un atto atteso da tempo che il sindaco di Alghero Mario Conoci ha posto tra le priorità di inizio mandato, sostenendo l'Itere insieme all'assessore Aldemani e patrimonio Giovanna Caria. Abbiamo attuato tutte le iniziative amministrative necessarie per rispettare l'impegno fissato per il mese di settembre, spiega il sindaco. E ringrazio per questo la struttura comunale per l'impegno profuso. Ieri il Consiglio Comunale Unanime ha deliberato l'accessione in proprietà dell'aria a favore del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Vigili del Fuoco, per la definitiva realizzazione della nuova sede di servizio del distaccamento di Vigili del Fuoco di Alghero. La precedente delibera di Consiglio che concedeva all'aria in diritto di superficie per 99 anni rinnovabili risaliva al 2010. L'impegno dell'amministrazione Conoci è stato immediato, da subito sono state avviate le interlocuzioni, gli incontri con il comandante provinciale Luigi Giudice con l'intento di sbloccare l'impasse. Ora c'è la certezza, un passo avanti importante, che consente peraltro di salvare le cospicue risorse ministeriali disponibili prima del 31 dicembre. Abbiamo lavorato con impegno rispettando anche le scadenze che ci siamo imposti, spiega l'assessore Aldemani o Giovanna Caria, e siamo sicuri che vantaggi per la città e per il territorio saranno di gran valore. L'area ceduta dal comune, aggiunge, offre la possibilità di edificare la nuova struttura con tutte le caratteristiche di modernità, efficienza e sicurezza, caratteristiche praticamente inesistenti nell'immobile attualmente occupato dai Vigili del Fuoco nel quartiere della Pietraia in via Napoli. L'area in cui sorgerà la nuova caserma si trova in località La Scaletta, risulta in posizione favorevole rispetto al potenziale bacino di utenza, nella zona edificabile in prossimità del centro cittadino e presenta una viabilità adeguata al traffico pesante ed è facilmente raggiungibile, essendo ben collegata e collocata sia rispetto al centro cittadino che rispetto a importanti arteri di traffico di tipo statali, provinciali e comunali. Una struttura operativa di primaria importanza che finalmente trova la sua collocazione adeguata. Si chiude quindi un discorso avviato dal sindaco Mario Conoci con il comandante giudice fin dall'inizio mandato. Soddisfazione anche da parte del gruppo consigliare per Alghero è un atto importante, hanno evidenziato Gabriele Sposito, Pietro Sartore e Mario Bruno, che conclude un iter che ha visto un'importante mediazione anche nel corso della precedente consigliatura e che porta in dote benefici e vantaggi per gli algheresi di gran lunga superiori al valore dell'area. Da qui il nostro voto favorevole ieri in Consiglio Comunale. Lunedì mattina invece al Qualtè, nella Sala Convenni, si terrà la sottoscrizione ufficiale del contratto di Laguna del Caliche che rientra nel filone dei contratti di fiume. Il sindaco Mario Conoci sottoscriverà l'accordo di programma con i partner istituzionali, associazioni ambientaliste, comitati ed enti che condividono il percorso e le finalità che hanno portato alla definizione delle azioni strategiche da adottare per contrastare i problemi dell'area Calic. Regione Sardegna con gli assessorati all'agricoltura, ambiente, lavori pubblici, provincia di Sassari, Adis, Arpas, Agris, Laore, i comuni del bacino idrografico di Alghero, Sassari, Ittiri, Villanova, Monteleone, ma anche Uri, Putifigari, Olmedo, Abanoa, Consorzio di Bonifica della Nurra, Fleg Nord Sardegna, Parco di Portoconte, Fondazione Alghero, associazioni dei pescatori, imprese del settore ambiente e ecologia, istituti scolastici, tutti insieme per l'avvio di un percorso che dovrà portare ad attuare azioni concrete attraverso una programmazione triennale contenuta nel contratto di Laguna. Lo stesso si configura come strumento strategico per integrare tematiche apparentemente eterogenee, ma in realtà profondamente interconnesse tra loro la qualità delle acque e degli ecosistemi del corpo idrico della laguna, l'esposizione del territorio ai rischi idraulici e idrogeologici, la difesa del suolo, la gestione del territorio in grado di coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un tessuto produttivo resiliente alle dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici. In tal senso la regione Sardegna, attraverso il distretto idrografico e le altre strutture regionali competenti su diversi temi, ha supportato sin dall'avvio il processo di attivazione e conduzione del contratto del Calic. La laguna del Calic, oltre a essere sostenuta da una programmazione triennale strategica attraverso l'adozione del contratto, è il fulcro di due azioni pilota. Una stazione sperimentale di allevamento bivalvi, coordinata dal Servizio Progettazione del Comune di Alghero in collaborazione con diversi enti pubblici di ricerca e con operatori privati concessionari dell'area, è la riqualificazione di un tratto della sentieristica del lato ovest della laguna curata dal Parco di Porto Conte. Il contratto di laguna ha dato impulso alla condivisione delle conoscenze e delle problematiche legate agli impatti cumulativi e sinergici che insistono nella laguna stessa. Il protocollo di intesa, primo embrione del contratto di laguna, è stato sottoscritto da amministrazioni pubbliche, associazioni del terzo settore e da rappresentanti del mondo produttivo, che a vario titolo hanno competenza nell'area del bacino imbrifero. Anche le scuole sono coinvolte e infatti in fase di lancio un concorso a premi per dotare il contratto di un logo, elemento fondamentale di comunicazione e riconoscimento. La firma del contratto di laguna non è che un punto di partenza. Il percorso partecipativo continuerà per affrontare in maniera condivisa la gestione delle acque e l'adattamento ai mutamenti climatici del territorio. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il 10 ottobre a Dolmedo, dove si affronteranno le problematiche inerenti all'adattamento ai mutamenti climatici e si coprogetteranno azioni a breve, medio e lungo periodo. Purtroppo in questi anni il blocco del turnover, la mancata attivazione dei concorsi ha progressivamente depauperato il numero di operatori nel comparto sanitario. Ogni giorno i cittadini conoscono la sofferenza causata da questa carenza d'organico. Abbiamo quindi deciso di avviare un piano di assunzioni straordinario, sbloccando tanti concorsi che erano stati previsti nel passato ma mai attivati. Queste le parole del Presidente dell'Aggiunta regionale, Cristian Solinas, che ieri a Villa Devoto a Cagliari ha presentato insieme all'Assessore regionale della Sanità Mario Nieddu il piano straordinario per le assunzioni e la mobilità del personale nel sistema sanitario regionale. Circa 70 concorsi che saranno avviati entro l'anno per un totale di oltre 1000 assunzioni che riguarderanno i diversi profili del comparto. Un numero di operatori che soddisfa il piano del fabbisogno a cui ATS non ha mai dato risposta. Un cambio di passo nella sanità regionale, un'esigenza dei sardi, ha precisato il Presidente Solinas. Abbiamo perso fin troppo tempo negli anni passati, i cittadini pretendono una sanità all'altezza delle loro aspettative, un sistema di qualità che noi vogliamo affermare con la riforma. Riforma che tra l'altro entro novembre dovrebbe tornare in giunta per essere approvata e poi passare nelle mani del Consiglio regionale per la discussione e il voto definitivo. Stiamo ponendo rimedio ai disastri del passato, dice l'assessore Nieddu. I 27 milioni di euro risparmiati dall'ATS sono stati generati dal blocco delle assunzioni con conseguente taglio alla produzione e alla qualità dei servizi erogati. Per dare il via al piano straordinario delle assunzioni, la Giunta ha approvato le nuove linee di indirizzo per l'accentramento delle procedure concorsuali della mobilità. Le nuove regole prevedono l'accentramento delle procedure concorsuali in capo a un'azienda a capo fila, individuata di volta in volta dalla Regione e non saranno quindi più in mano alla sola ATS. Cambiano anche i concorsi, introdotto il criterio meritocratico, le aziende comunicheranno alla capo fila le sedi di destinazione solo dopo aver concluso le procedure di mobilità e tenendo conto dei posti coperti dalla mobilità stessa. I vincitori del concorso inseriti in graduatoria potranno indicare la serie di destinazione secondo il criterio per cui le preferenze terranno conto della posizione in graduatoria. Chi avrà ottenuto i risultati migliori avrà maggiori possibilità di vedersi assegnare i posti a disposizione nelle destinazioni desiderate. Chi dovesse rifiutare la destinazione invece decadrà automaticamente dalla graduatoria. Ci fermiamo ora per una prima pausa pubblicitaria tra poco. E continuano gli appuntamenti del calendario per i festeggiamenti di San Michele organizzati dal Comune con la Fondazione Alghero e le associazioni cittadine che arrivano al fine settimana con diverse manifestazioni di sport e spettacolo contorno dei riti religiosi. Tra gli eventi spiccano sicuramente la gara motoristica Alghero Scala Piccada e il Mamatita Festival è l'Alghero Half Marathon e 10.000. Iniziano a rombare oggi i motori della 58esima edizione dell'Alghero Scala Piccada. Già da questa mattina alle 8 sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda, Alghero, Villanova, Monte Leone sono iniziate le operazioni di preparazione alla gara cura dell'ACI Sport. Alle 11 invece nella scuola primaria della Sfodelo c'è stata l'inaugurazione del Mamatita Muro con una performance a cura di Spazio T in collaborazione con Royal Circus Ostrica nell'ambito del programma Mamatita Festival. Alle 18 a Fertilia Area Pineta via Orsera è previsto un momento di yoga con Nura Yama a cura sempre di Spazio T in collaborazione con Francesca Sanna. Alle 20 al Qualtè il concerto Trentanze 1989-2019 raccultanti Pinopiras di Claudia Crabuzza e Pietro Ledda Barabba a cura dell'Associazione Culturale Cabirol. Alle 20 in piazza Sulis la performance no stop del duo Flosch a cura di Spazio T programma Mamatita Festival mentre alle 21 Ginette Sumond performance di Celine Briart a cura sempre di Spazio T e all'interno sempre del Mamatita Festival. Il Largo San Francesco. Alle 21 a Fertilia Lungomare Rovigno lo spettacolo emisfero del Magda Clan Circo spettacolo per Chapitò. Domani invece alle 11 nella sala conferenze del Qualtè laboratorio di arte libera ispirato a Herve Dule per bambini dai 2 a 5 anni ingresso libero a cura della maestra Eugenia dell'Istituto Comprensivo numero 3 in collaborazione con la libreria e il labirinto. Alle 18 in piazza del mercato alla pietraia la performance Ypsilon la variabile del calcio di Dynamis a cura di Spazio T. Alle ore 20 alle Teatri in via Manzoni 85 le storie a manovella di Caterina Civai. Alle ore 20 e 30 il concerto per San Michele concerto polifonico a cura del coro polifonico algherese nella chiesa di San Michele. Mentre alle 20 e 30 il concerto di San Michele a cura dell'associazione Noval Gay nel piazzale del Qualtè. Domenica 29 settembre, giorno in cui si celebra il Santo Patrono dalle ore 8 l'attesa 58esima scala piccada cronoscalata automobilistica a cura della Cisport sulla strada statale 292 Alghero Villanova. Dalle ore 9 e 30 alle ore 13 l'Alghero Alf Marathon e 10.000 Alghero, terza edizione di gara podistica di corsa su strada a cura della SD Alghero Marathon partenza da piazza Sulis e invece la premiazione al piazzale del Qualtè. Alle 20 sempre nel piazzale del Qualtè il concerto per San Michele con la banda musicale da Lerci. Alle 20 e 30 al teatro civico lo spettacolo di teatro danza Die con Sarangius Wallpaper a cura dell'associazione Tersi Corea info e biglietti sul sito della stessa associazione. Alle ore 21 nel centro storico lo spettacolo itinerante Stam Punk Movement dello Shidan Theater sempre a cura dello spazio T all'interno del Mamatita Festival. Come detto tra gli appuntamenti di questi festeggiamenti di San Michele anche l'omaggio a Pino Piras organizzato dall'associazione culturale Cabirol in programma questa sera alle 20 al Qualtè e allora sentiamo proprio i protagonisti. Al mio narrazione Al mio narrazione Al mio narrazione del Marcaio E questo è sempre un ragazzo che mi ha fatto quando vanno a trovare, Claudia, torna a Mael. Finalmente a Mael. Abbiamo trovato una maniera di fare una cosa insieme. Abbiamo trovato 30 anni della morte di Pinopilas, abbiamo trovato la celebrazione, abbiamo pensato di fare un concerto. Finalmente tutti tutti insieme. A Kechatalda, all'ora? No, sì, a Kechatalda, alla suite, al qual te, al... Allora, conviene tutti tutti gli Algaresos, Pier? Assolutamente sì. Io voglio che siano tutti gli Algaresos, che aggara Pinopilas, e sai chi deve fare, lui che sa poter fare. També gli giovani però, eh? Ma, assolutamente. E io ho lasciato un'arpa proprio per i giovani al liceo musical, eh? Per i giovani. Io voglio che i giovani siano tutti gli Algaresos. Ma raccomando a Kechatalda, eh? Assolutamente sì. A Sparini. Ecco. Se non a Sparini, a Raghim. Sì, è stata una bella esperienza. Avevamo fatto il primo concerto di questo spettacolo, siamo stati molto contenti, ma sono contenti, perché c'è via tutta la gente. Calchiù conosceva anche già Pinopilas e Calchiù noi le canzoni si sono aggrediate assai, come sempre. Una bella esperienza. Sì, 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 sicuramente. A questo pomeriggio ci sarà il secondo degli incontri programmati dall'Associazione Vetera Etnova per il suo Festival 2019. Il primo appuntamento ha avuto un successo inaspettato, anche per gli organizzatori, con la sala mosaico del Museo Archeologico, al limite della capienza, tanto che alcuni ritardatari non sono potuti entrare per motivi di sicurezza e hanno dovuto rinunciare alla narrazione del professor Antonio Budruni sulla storia della popolazione algherese dalle origini al XVI secolo. L'appuntamento di quest'oggi, il secondo, come detto, inizierà alle 18, sempre nella sala mosaico del Museo Archeologico, dove il professor Budruni ci racconterà la storia della popolazione algherese, riprendendo dal XVI secolo per arrivare sino al XVIII. Ci fermiamo ancora per qualche istante adesso, a tra poco. Ieri pomeriggio è stato presentato il Clinic Internazionale Integrato Ciutat dell'Alghè, in programma il 28 e 29 settembre, quindi domani e domenica, organizzato dal Comitato Regionale FIP Sardegna e dalla Pallacanestro Alghero. Appuntamento patrocinato dal Comune, dalla Generalità di Catalunia, dalla Regione, denominato La Donna, lo sport, la Pallacanestro per giocare e per crescere. Ad illustrare la manifestazione c'erano il sindaco di Alghero, Mario Conoci, l'assessore allo sport, Maria Grazia Salaris, il responsabile del settore minibasket della Pallacanestro Alghero, Lontone Lomoroni, il rappresentante della Generalità di Catalunia, Dalghiero Augusta Navarro, il presidente del Comitato Regionale della FIP, Bruno Perra. Abbiamo realizzato alcune interviste, ascoltiamole. Questa manifestazione ha una grande importanza, una grande rilevanza, perché, a prescindere che posso sicuramente aumentare l'interesse, soprattutto la conoscenza della Pallacanestro, della nostra Regione, ma un confronto come questo con la federazione catalana, credo che sia molto importante. in primis perché la federazione catalana è personalmente una delle federazioni europee che svolgono in meglio la Tv2 della Pallacanestro. Sapete il ministro quando la Spagna abbia fatto quest'anno vinto i campionati del mondo e tutti i campionati di giornalismo. Questo grazie al lavoro che fanno in tutto il territorio spagnolo, in modo particolare in Catalunia. In Catalunia c'è un modo di interpretare lo sport abbastanza ausente inoltre, perché loro riescono veramente a valorizzare il tutto, prima con la metodologia dell'allenamento, ma soprattutto per la progettualità in ambito di progetti intorno ai giovani, che poi portano chiaramente ad ottenere risultati importanti nello sport. Tutti gli sport, oltre la Pallacanestro, vediamo che la Spagna, la Spagna, la Spagna, gli studi di sport, oltre la Pallacanestro. Bene, stasera dobbiamo andare a presentare una manifestazione, una tre giorni organizzata dalla Pallacanestro Aghero e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che gode tra l'altro il patrocinio del Ministero dello Sport di Catalunia e della Geneta di Catalunia, oltre che a degli sponsor locali che ci danno una grossissima mano. Si tratta di una tre giorni formativa, dove cerchiamo di fare in modo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano continuare a prendere in continuazione. Si tratta di domani sera, abbiamo una tavola rotonda dedicata alla donna, lo sport e la Pallacanestro. Giocare per crescere, perché riteniamo opportuno e fondamentale che il modello della Federazione Italiana Pallacanestro venga portato ed esportato un pochino su tutto il territorio. Dopodiché c'è un'altra chicca. Siccome tra i nostri redattori sarà presente Andrea Capobianco, responsabile di tutte le squadre giovani del settore nazionale, nonché appena nominato allenatore della squadra femminile, presenterà il suo libro, che ha scritto quattro anni fa quando è stato l'unico allenatore della Nazionale Italiana a vincere i mondiali Under 18. Per cui presenteremo il libro domani sera nella sala consigliare dopo la tavola rotonda. Poi le giornate formative vere e proprie inizieranno sabato e domenica con l'ingresso riservato ai soli istruttori e allenatori di tutta la Sardegna che parteciperanno in campo a tutta una serie di lezioni e cliniche non solo fondamentali ma su tanti aspetti formativi a livello giovanile, femminile. Queste dunque le parole di Bruno Perra e Antonello Muroni, ma sentiamo anche le parole del Sindaco Mario Conucci. Un'iniziativa importante dell'Associazione Dilettantistica Pallacanestro Alghero che ha organizzato un forum, un incontro sul tema della partecipazione delle donne nello sport, in particolare del basket, al quale partecipa la Federazione Nazionale, quindi la Federazione Italiana, però anche quella della Catalogna e quindi anche un incontro fra realtà territoriali diverse. Un incontro ad altissimo livello perché partecipa l'allenatore nazionale della squadra di basket femminile e altri illustri ospiti e quindi è una cosa che si inserisce tra l'altro nel panorama degli eventi di San Michele arricchendoli in maniera notevole. San Michele si caratterizza molto per essere anche un momento di attività sportive. C'è l'Alghero Marathon, c'è la Scala Piccata, c'è questo incontro importante, questo clinic importante sulla Pallacanestro. Quindi un ringraziamento alla Pallacanestro Alghero per questa organizzazione e per la vetrina anche internazionale che fa avere la nostra città. Per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo. Arrivederci. Grazie.